Oggi c'è la penultima tappa della Vuelta di Spagna, da Corvera de Asturias all'alto dell'Angliru. Raramente, nel ciclismo contemporaneo, è capitata una tappa di un grande giro con così tanti importanti motivi per essere vista. Oggi si deciderà il vincitore della Vuelta, la tappa di domani è la solita passerella finale, tutta in pianura, lo si farà in su una delle salite più difficili del ciclismo professionistico. E tra quelli che la scaleranno ci sono Chris Froome, Vincenzo Nibali e Alberto Contador. Sono i tre migliori corridori di corse a tappe degli ultimi anni. Tutti e tre in forma, tutti e tre con un motivo per provare a staccare gli altri e vincere, e, visto che Contador poi si ritirerà, è l'ultima volta che saranno insieme sulla stessa salita. L'Angliru. 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 L'Angliru.